Docente e tutor, che è una figura diversa dall'orientatore. Vediamo insieme di cosa si tratta, io sono Pietro e questa è Orizzonte Scuola. Questi due nuovi ruoli verranno inseriti nel sistema per l'anno scolastico 2023-2024. Specifichiamo che non saranno nuovi posti, quindi nuovi docenti, ma saranno dei ruoli attribuiti a docenti già in servizio. Come saranno attribuiti, saranno anche retribuiti. Ancora sono delle stime, per cui non mi esprimo, però si parla sempre di lordo e sul sito trovate tutto. Il tutor avrà il compito di coordinare e promuovere tutta l'attività educativa per personalizzarla nelle classi terze, quarte e quinte nella scuola secondaria di secondo grado. L'orientatore invece, lo si può dedurre, coordinerà tutta l'attività di orientamento per aiutare gli alunni a scegliere in base alle loro ambizioni, potenzialità, tantissimi fattori come anche le opportunità lavorative nel territorio. La formazione di queste figure sarà gestita da Indire e serviranno 20 ore e si stimano già 40.000 tutor, CIEPCA, e un orientatore per ogni istituto. Presto vi aggiorneremo, quindi salva questo video, segui Orizzonti Scuola e noi ci vediamo alla prossima notizia. Ciao!